Cagliari e Parma gareggeranno nella semifinale dei play-off di Serie B.La prima gamba si giocherà in Sardegna.Gli emiliani hanno una prestazione migliore nelle partite casalinghe.Cagliari e Parma gareggeranno nella semifinale dei play-off di Serie B.La prima gamba si giocherà in Sardegna.Gli emiliani hanno una prestazione migliore nelle partite casalinghe.In effetti, come riportato da L Unione Sarda, la squadra di Fabio Pecco ha segnato 35 punti allo stadio Tardini, mentre, lontano da Emilia. Sono 26